Ed è emesso che in realtà tutti noi pensiamo di questa condizione e lo pensiamo quotidianamente quando riferiamo un evento, un fatto o semplicemente quello che ci ha accaduto anche semplicemente al nostro obiettivo il quale poi percepisce, quindi interpreta, questo tipo di informazione che gli abbiamo dato che si porta, la sua interpretazione viene trasferita ad un altro che ha una diretta interpretazione quindi l'oggetto è sempre quello, però interpretato viene facendo in maniera differente Se vi ritrovate a scrivere una qualsiasi di leggere o anche con un rock, sono fatte in modo corretto la gente più di leggere se ne accorge, si stanno nel parere, se sei un uomo e... Cioè io credo che la sua generazione sia ancora la media di questa dice oggi Grazie Credo che sia vero quello che incontro che molte volte i rapporti interpersonali viene utilizzato come un ordine conoscente, no? Come qualche cosa veramente che permette un approccio che non è un approccio che è un po' invece collegato anche con il discorso degli sms, no? Io per esempio non lo sanno che mi dico moltissimo gli sms ma perché credo molto, riportando il discorso all'inizio, al valore della parola Molto spesso noi quando parliamo non sempre lasciamo una traccia così forte come quando lo scriviamo Non so quanti di voi li conoscevano già perfettamente? E' giusto? E' giusto? E' giusto? Siamo veramente... No